Buon salve cari pixelini e benvenuti bentornati in questa nuova fantastica avventura di eri potro guas misteri ho fatto varia al posto del nulla maledetto me ma ragazzi siamo pronti per continuare la nostra avventura ma c'è un piccolo ma ragazzi perché io volevo perlustrare il reparto proibito come l'ultima volta ma ragazzi è uscita in teoria una nuova missione a tempo che non mi fa vedere quindi ragazzi dobbiamo cambiare stanza quindi andiamo a cambiare stanza tipo andando nella torre ovest dal preside e non succede assolutamente nulla ci dovrebbe essere una missione secondaria a tempo che non mi è ancora comparsa probabilmente dico probabilmente devo finire il capitolo 29 quindi niente come non ho detto devo anche finire o forse il quidice perché ragazzi se non erro la nuova missione secondaria è in base a come dire erica raff quindi probabilmente dovremmo essere in pari con il quidice ma non vi preoccupate oggi facciamo questo poi magari andiamo a fare una partitina di quidice così mi avvicino leggermente a fare anche quella missione così la sblocchiamo e andremo a fare nelle prossime giornate vi ricordo che oggi è sabato domani sarà domenica non vi ho fatto uscire tanti video in questi giorni sto cercando di rimediare più possibile infatti sabato e domenica nuovi video mamma mamma ma cosa più unica che rara ma ragazzi ci siamo lasciati l'ultima volta che abbiamo diciamo distratto la bibliotecaria e siamo finalmente all'interno del reparto proibito mamma mamma ma guardate che bello con tutte le candele così mamma ma andiamo a cercare informazioni sul platano picchiatore quanti libri siamo qui da un bel po ormai e non abbiamo ancora trovato nulla che ci collega che colleghi il platano picchiatore a organizzazioni pericolose come r tan zan non ci resta che continuare a cercare sembra questa faccia molto sclerata però ma come facciamo a sapere che quello che hai letto al ghirigoro sul platano r è vero beh effettivamente potrebbe anche non essere vero però magari è solo una teoria pazza per chi ha scritto quel libro meglio di niente se sprechiamo tempo seguendo piste false rischiamo che la rakepick arrivi all'ultima sala maledetta prima di noi secondo me la rakepick sta seguendo le nostre tracce nel senso noi stiamo cercando la sala maledetta lei neanche la cerca e quando la troveremo zac eccomi qua ti ammazzo ciao ho vinto probabilmente madame villanelle non ci avrebbe mai portato un libro infarcito di stupidaggini anche questo è vero in effetti beh brava questa ipotesi potrebbe essere comunque una cavolata e quindi cosa vuoi dirmi che dovremmo ignorare l'unica pista che abbiamo in effetti ma se ne avessimo tante altre uno diceva facciamo per me le altre e invece forse voglio solo fare qualcosa di concreto non sei l'unico che vuole vendicare rowan e di certo non sei il capo del circolo di canna merdulina cara dolce di chi era il miglior amico rowan o era mio quindi il circolo di canna sono io a capo punto era il mio miglior amico non il tuo quindi c'è la piovra la faceva con me non con te l'abbiamo creato noi tre perciò mettiamo in chiaro come procederemo adesso io sono il capo tu sei z e vinco io concordo dovremmo discutere sulle prossime mosse va bene ditemi tutto sono pronto maledetti ma ragazzi andiamo subitissimo a scoprire tre orete di energia ragazzi mamma mamma ogni volta dico mi faccio la ricarica ma non la faccio mai ciò 915 da qui energia ormai ma sapete che sono pigro allora nessun indizio troppo piccolo se questo ci avvicinerà a rivelare la verità su r o interessante non sei il mio capo balboa faccio come mi pare sì ok d'accordo va bene ci deve essere qualcosa che spiega questo legame in uno di questi libri troviamolo allora posso stare qui a chiacchierare no il platano picchiatore non mi spaventa ma la rakepik dovrebbe avere paura di me se affronteremo il platano picchiatore dovremmo prepararci bene eh sì esattamente non dobbiamo litigare ma rimanere uniti contro la rakepik e non faccia ma cosa sappiamo di questa l'omelia prunes non dovremmo fidarci di lei chi è l'omelia prunes adesso l'abbiamo mai nominata non mi risulta mi sembra uno spreco di tempo non voglio fare ricerche voglio trovare la rakepik e la troveremo la troveremo e se ci fossero imbarcati si fossimo imbarcati in un'impresa inutile sì forse può essere nessun indizio è troppo piccolo se questo ci avvicinerà a rivelare la verità su r se dobbiamo affrontare r dobbiamo essere coraggiosi forti e pronti ad agire ci deve essere qualcosa che spiega questo legame in uno di questi libri non sei il mio capo bel boh faccio come mi pare se lo dici te nel mentre spendiamo altre energie va se affronteremo il platano picchiatore dovremmo prepararci bene non mi ricordo sono già letto mi sembra di sì però questo abbiamo già letto ragazzi mamma mamma ma ok ragazzi direi che abbiamo letto esattamente tutto ciò che ci mancava non vi salto la nulla perché praticamente ci manca una stellina oltre al fatto che il mio telefono ha dei problemi e se metto in pausa poi riparto problemini ma ragazzi eccoci qua con tutte cinque le stelline siamo pronti ad andare avanti prima di continuare però ragazzi vorrei fare un grande 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 ringraziamento a franca caligaris che mi ha fatto una donazione abbastanza bellina carina e la userò assolutamente per migliorare il mio canale e soprattutto comprarmi il nuovo telefono che sono mesi ormai che c'ho questo telefono con il touch screen rotto e quindi insomma devo averlo nuovo e purtroppo i soldi non sono il mio forte non sono nato ricco e quindi insomma anche soltanto un euro è molto molto apprezzato se qualcuno di voi e poi soprattutto con una donazione di almeno un euro avrete diritto a tutte le gemme che volete per un mese tutte le monete che volete e soprattutto ragazzi i tacquini i preziosissimi tacquini basta un euro oppure una donazione di almeno cinque euro avrete diritto del servizio prioritario con accesso su un canale telegram un gruppo telegram apposito e bla 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 ma è scritto tutto su ilpixelmato.it slash tacquini ma adesso ragazzi beh almeno ora sappiamo che abbiamo opinioni discordanti ma ci serve un segno che ci faccia capire cosa fare oh cavolo l'abbiamo appena trovato aspettate ragazzi forse ho trovato qualcosa spiega come r si serve del salice del platano picchiatore scusate mamma mia so però dire una parolaccia no ma è molto più importante guardate un'altra penna una piuma no è un foglio non capisco sono solo degli appunti di uno studente sui legni migliori per creare bacchette e manici di scopi probabilmente la grafia di mio fratello non hanno niente a che vedere con quello che stiamo cercando valvoa e invece sì ve li sto mostrando per questo riconosco la calligrafia oh accidenti hai ragione rocky questi appunti sono di rowan a rowan aveva scoperto più di quanto noi credessimo e non ce l'aveva detto interessante ho sempre detestato il fatto che i suoi punti sulle i fossero dei trattini a perché mettere dei trattini apposso i punti cos a me piaceva molto invece la rowan era originale c'è un piccolo problema il mouse si è bloccato ok è tornato mamma mamma ho che paura già forse ho finito per apprezzare i suoi giri gori se si bloccava anche il mouse io non potevo mai più fermare il video e addio video mamma ma ho mi manca un sacco qual è la cosa che ti manca di più di rowan rocky che era una piovra ah no non si può allora l'umorismo di rowan è quello pessimo che aveva però dai sì il cuore di rowan probabilmente intende tipo che è sempre si danna sempre per gli altri ok però banale il coraggio di rowan coraggio perché ha fatto delle cose coraggiose non mi ricordo ragazzi fatemi sapere cosa voi ne pensate io direi l'umorismo di rowan rowan mi faceva sempre ridere anche quando ero preoccupato per mio fratello era importante per me mentre fuori ci sono dei rumori assurdi spero che non si sentano anche per me l'umorismo mi è indifferente ma devo ammettere che rowan mi ha quasi strappato un sorriso in un pagno di occasioni e quindi sì però vabbè quindi rowan era in grado di fare cose impossibili ragazzi fatemi sapere se i dialoghi cambia cambiavano nel caso di altre scelte ovviamente ci stiamo impegnando così tanto per rowan non possiamo dimenticarce nemmeno per un secondo anche se ogni tanto non siamo d'accordo per questo dobbiamo vendicare il nostro amico e trovare l'ultima sala maledetta prima della rake pick comunque sia vorrei far notare che mi fa tutto sto casino per entrare nella sala diciamo nella parte proibita della biblioteca quando potevamo dire a semplicemente così per caso a bill che è un professore no non è un professore ragazzi esterno è vero esterno viene lì senza nessuno sappia usare boh vabbè questa cosa è un po' illegale però andare da una professoressa a un professore a caso dire guarda voglio voglio aumentare la mia conoscenza qui e lì magari ci facevano entrare no non è la prima volta che succede è proibito però con l'autorizzazione di un professore ci può andare forse ero chi ha ragione la nostra unica pista per trovare r è questo presunto collegamento al platano picchiatore e abbiamo scoperto tutto il possibile dalla sprout dal negozio di libri e per sino qui allora chiudiamola qui con le ricerche e andiamo dall'albero ma il platano picchiatore è pericoloso e rowan voleva che facessimo attenzione per non correre pericoli ma cos'altro possiamo fare per essere pronti ho un'idea ma devo andarci da solo ok dove devo trovare mio fratello se ci avvicineremo al platano picchiatore ci servirà all'aiuto di giacob o interessante ragazzi mamma mamma mao ragazzi vi avevo detto facevamo una amichevole di 15 ma ragazzi abbiamo fatto già abbastanza tempo dato che io so che voi non guardate mai i miei video fino in fondo io non perderò tempo ad allungarli quando non necessario quindi ragazzi ci vediamo nella prossima puntata di riporto cos misteri dove andremo a scoprire che un abraxane è scappato gli studenti dovrebbero stare nel proprio dormitorio fino al nuovo avviso ok semplicemente l'attenza di tre ore ma ragazzi direi che per oggi è tutto ci vediamo nella prossima puntata di riporto cos misteri mi raccomando di lasciare un mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova fantastica avventura si non me ne interessa proprio di meno e qui invece raccogliamo il bonus mamma mamma mao mamma mao e vabbè pazienza otta ma questa cosa non so se volerla o meno non lo so potrei potrei ma non lo so facciamo per ora così e ci becchiamo i tre tacchini e i quattro anche se tanto poi li aggiungo però così pian pianino ma di domani facciamo la prossima e così via così almeno non non destiamo troppi sospetti ma ragazzi per oggi è tutto che altro dire fatto il misgatto mammao se anche tu come me non puoi più vedere dei poveri ipogrifi incatenati se anche tu come me non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici allora iscriviti al canale del pixel matto potrai trovare ricette gameplay notizie poteriane e molto altro ancora cosa aspetti iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video il fantastico mondo di harry potter ti aspetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti